Cambiamo argomento a Santa Margherita Belice, sono state firmate altre due determinazioni sindacali per revocare contributi post terremoto non spesi per la ricostruzione degli immobili e adesso la somma che torna nelle casse comunali è lievitata a un milione di euro. Ci riferisce la Santa Margherita Francesco Graffèo. Continua a Santa Margherita Belice l'azione di monitoraggio da parte dell'ufficio tecnico comunale dell'amministrazione guidata da Franco Valenti nel sollecitare i cittadini che nel tempo hanno riscosso contributi per ricostruire la loro abitazione a spenderli. Così dopo decine di anni e numerose diffide si è passati ai fatti. In un mese ora sono quattro le revoche di contributi statali per chi non ha iniziato i lavori di ricostruzione senza giustificato motivo. In ballo circa un milione di euro. La settimana scorsa sono stati firmati dal sindaco Valenti due provvedimenti per complessivi 870 mila euro. Adesso altre due revoche per ulteriori 130 mila euro. Aurelio Lovoi, ingegnere capo dell'ufficio tecnico comunale di Santa Margherita Belice. Noi ci stiamo occupando ormai da qualche anno come ufficio tecnico e in particolare come ufficio di ricostruzione di un monitoraggio continuo su quelli che sono stati i provvedimenti emessi per finanziare la ricostruzione di questi edifici che sono stati distrutti dal sisma nel 1968. In realtà sembra che partiamo da lontano ma ci stiamo occupando ormai di casi che sono limitati, che hanno ricevuto un decreto di finanziamento a seguito dell'approvazione del progetto da parte di questa commissione speciale che si occupa della ricostruzione del Belice e che per diversi motivi non hanno dato seguito alla procedura di ricostruzione di questi immobili. Il monitoraggio è stato affrontato coinvolgendo in maniera continuativa e costante gli interessati, gli aventi diritto e quindi facendo riferimento alla legge 10 del 91 legge regionale noi abbiamo avviato una serie di procedimenti informando il concessionario in cui inizialmente davamo delle diffide per iniziare questi lavori. Occorre ricordare che i finanziamenti sono assolutamente legati alle concessioni edilizie, quindi ai titoli abilitativi che sono regolamentate per legge da scadenze che vanno rispettate. Noi ci siamo accorti che alcuni di questi aventi diritto che avevano già appunto avuto il decreto di finanziamento dei loro immobili non avevano proceduto all'inizio del lavoro o comunque non avevano proceduto nei termini previsti dalle concessioni alla costruzione di questi edifici. Sono questi i casi che abbiamo appunto segnalato all'amministrazione che hanno apportato oggi all'emissione di quattro decreti da parte del sindaco che prevedono la revoca del finanziamento. Per chiudere la ricostruzione privata a Santa Margherita quanto si stima servono ancora? Dunque per chiudere la ricostruzione privata anche su questo si è lavorato da parecchio tempo. Occorre dire che noi un'idea di carattere generale l'abbiamo anche se è assolutamente così previsionale. Noi abbiamo pensato che per poter chiudere per intero la ricostruzione possano servire circa 60 milioni di euro per Santa Margherita.